La signora delle camelie, capitolo primo. È mia opinione che si possano creare dei personaggi solamente dopo aver studiato molto gli uomini, così come non si può parlare una lingua se non ha condizione di averla imparata veramente. Non avendo ancora raggiunto l'età in cui si inventa, qui mi accontenterò di raccontare. Invito dunque il lettore a credere all'autenticità di questa storia, i cui protagonisti a eccezione dell'eroina vivono ancora. D'altro canto a Parigi ci sono testimoni della maggior parte dei fatti qui riportati e che nel caso la mia testimonianza non bastasse potrebbero confermarli. Per una singolare coincidenza solo io potevo trascriverli, poiché ho io solo raccolto le confidenze degli ultimi dettagli, senza i quali sarebbe stato impossibile farne un racconto interessante quanto completo. Ecco dunque come sono avvenuta a conoscenza dei suddetti dettagli. Il 12 marzo 1847 il Rue Lafitte lessi un cartellone giallo che annunciava la vendita di mobili e oggetti preziosi. La vendita avveniva dopo un decesso. Il cartello non faceva il nome della persona morta, ma la vendita si sarebbe svolta al numero 9 di Rue D'Anton, il 16 mese, da mezzogiorno alle 17. L'annuncio diceva anche che il 13 e il 14 sarebbe stato possibile visionare l'appartamento e i mobili. Sono sempre stato un appassionato di oggetti preziosi, così mi ripromisi di non mancare l'occasione, se non proprio per fare acquisti, almeno per andare a dare un'occhiata. L'indomani mi recai in Rue D'Anton, al numero 9. Nonostante fosse presto, nell'appartamento si trovavano già visitatori e visitatrici, le quali, benché vestite di velluto, avvolte in scialli di Kashmir e attese all'uscita dalle loro eleganti carrozze, guardavano con stupore, addirittura con ammirazione, il lusso che si dispiegava davanti ai loro occhi. Più tardi capì tale ammirazione e stupore, poiché esaminando lo stesso riconobbi facilmente che mi trovavo nell'appartamento di una mantenuta. Ora, se c'è una cosa che le signore di mondo desiderano vedere, e li erano tutte le signore dell'alta società, sono le abitazioni privati di quelle donne le cui carrozze insozzano ogni giorno le loro, che hanno come le loro accanto a loro, il palco all'opera e agli Italians, e a che a Parigi ostentano l'insolente opulenza della loro bellezza, di gioielli e di scandali. La padrona della casa in cui mi trovavo era morta. Le donne più virtuose potevano così penetrare nella sua camera da letto. La morte aveva purificato l'aria di quella splendida cloaca, ed altronte, come se non ce ne fosse stato bisogno, e si accampavano come scusa di essere venute a un'asta senza sapere la casa di chi fosse. Avevano letto i cartelloni, volevano visitare quello che prometteva l'annuncio, e scegliere prima, tutto lì, il che non impediva loro di cercare fra tutte quelle meraviglie le tracce di quella vita da cortigiana di cui avevano avuto, senza ombra di dubbio, di così strani racconti. Disgraziatamente i misteri erano morti insieme alla dea, e nonostante tutta la più buona volontà, quelle signorine scoprirono solamente quanto vi era in vendita da dopo il decesso, e nulla di quanto vi si vendeva quando l'inquilina era viva. Del resto vi era di che fare acquisti. L'arredamento era superbo, mobili in legno di rosa e di bull, vasi di sevra e cinesi, statuine di sassonia, raso, velluti e pizzi, non mancava niente. Passeggiai nell'appartamento e segui le nobili curiose che mi avevano preceduto. Entrando in una stanza tappezzata di tessuto indiano, quando stavo per entrarvi anch'io, esse ne uscirono quasi subito sorridendo, come se si vergognassero di quella nuova curiosità. Desiderai ancora più fortemente accedere alla camera. Era lo spogliatoio decorato con minuscoli dettagli nei quali sembrava essersi esercitata al massimo la prodigalità della morta. Sopra un grande tavolo appoggiato al muro, un tavolo di tre piedi di larghezza per sei di lunghezza, brillavano tutti i tesori dell'Oc e dell'Odiot. Era una magnifica collezione e non uno di quei mille oggetti così necessari alla toilette di una donna, come quella presso la quale ci trovavamo, era di un metallo diverso dall'oro o dall'argento. Eppure quella collezione non aveva potuto comporsi che poco a poco e non era lo stesso amore ad averla completata. Io, che non mi intimidivo alla vista dello spogliatoio di una mantenuta, mi divertivo a esaminare i dettagli quali che fossero e mi accorsi che tutti quegli utensili magnificamente cesellati mostravano varie iniziali e stemmi diversi. Guardavo tutte quelle cose di cui ciascheduna rappresentava ai miei occhi una prostituzione della povera fanciulla e mi dicevo che Dio era stato clemente con lei, poiché non aveva permesso che giungesse al castigo comune e l'aveva lasciata morire nel lusso e nella bellezza, prima che di vecchiaia, la prima morte delle cortigiane. Che cosa c'è infatti di più triste del vedere la vecchiaia del vizio, soprattutto nella donna? Non porta nessuna dignità, né ispira alcuni interessi. Quell'eterno pentimento, non per la cattiva strada seguita, ma per i conti fatti male e il denaro mal speso, è una delle cose più tristi a cui si possa assistere. Ho conosciuto un'anziana donna di piacere alla quale non restava del proprio passato che una figlia bella quasi a detta dei suoi coetani quanto lo era stata la madre. Quella povera bambina alla quale la madre non aveva mai detto sei mia figlia, se non per ordinarle di nutrire la sua vecchiaia così come lei aveva nutrito l'infanzia dell'altra. Quella povera creatura si chiamava Louise e obbediente alla madre si dava senza volontà, senza passione, senza piacere, come avrebbe esercitato un mestiere se ci si fosse preoccupati di insegnarne uno. La vista continua della dissolutezza, una dissolutezza precoce alimentata dalla continua condizione malata della ragazza, aveva spento in lei la cognizione del male e del bene, che forse Dio le aveva donato, ma che a nessuno era venuto in mente di sviluppare. Mi ricorderò per sempre di quella fanciulla che passava lungo i boulevard quasi tutti i giorni alla stessa ora. Ogni volta sua madre l'accompagnava, assidua quanto una vera madre avrebbe accompagnato una vera figlia. Allora ero molto giovane e pronta ad accettare da parte mia la facile morale del mio secolo, eppure ricordo che la vista di quella scandalosa sorveglianza mi ispirava a disprezzo e disgusto. Aggiungetevi che mai volto di vergine esprimeva un simile sentimento di innocenza, una tale espressione di malinconica sofferenza. La si sarebbe detta un'immagine della rassegnazione. Un giorno il volto della fanciulla si illuminò. All'interno dei vizi di cui la madre gestiva il programma, alla peccatrice parve che Dio le concedesse una felicità. E perché poi Dio, che l'aveva fatta senza sforzo, l'avrebbe lasciata senza consolazione, sotto il doloroso fardello della vita. Un giorno dunque ella si accorse di essere incinta, e quel che ancora restava di casto e lei trassalì di gioia. L'anima a strani rifugi. Louise corse ad annunciare alla madre la novella che la rendeva così felice. È vergognoso da dire. D'altro canto qui non ci stiamo divertendo a fare gli immorali, ma raccontiamo un fatto vero che forse faremo meglio a tacere, se non credessimo che di tanto in tanto bisogna svelare i martiri di quegli esseri condannati senza averli ascoltati, disprezzati senza averli giudicati. È vergognoso, diciamo. Ma la madre rispose alla figlia che non avevano abbastanza per sostentare due persone, e non ne avrebbero avuto abbastanza per tre. Che simili figli sono inutili e che una gravidanza è tempo perso. L'indomani un'ostetrica, che indicheremo semplicemente come un'amica della madre, andò a trovare Louise, che restò qualche giorno a letto e ne uscì più pallida e più debole di prima. Tre mesi dopo un uomo fu preso da pietà per lei e si dedicò a guarirla moralmente e fisicamente. Ma l'ultimo colpo era stato troppo violento e Louise morì in conseguenza dell'aborto. La madre vive ancora, Dio solo sa come. Questa storia mi era tornata in mente mentre contemplavo in SSR d'argento e a quanto pare avevo trascorso un po' di tempo immerso in queste riflessioni, dato che nell'appartamento eravamo rimasti solamente io e un guardiano, che dalla porta controllava attentamente affinché io non prendessi nulla. Mi avvicinai a quel bravo uomo al quale ispiravo preoccupazioni così serie. Signore, gli dissi, potrebbe dirmi il nome della persona che viveva qui? Signorina Marguerite Gauthier. Conoscevo la fanciulla di nome e di vista. Come? Dissi al guardiano. Marguerite Gauthier è morta? Sì, signore. E quando? Tre settimane fa, mi pare. E perché fanno visitare l'appartamento? I creditori hanno ritenuto che potesse far salire i prezzi dell'asta. Le persone possono vedere prima l'effetto che fanno esposte le stoffe e i mobili. Lei può ben capire come questo possa incoraggiare l'acquisto. Così aveva dei debiti? Oh, signore, parecchi. Ma l'asta può ripagarli tutti? E anche di più. A chi andrà allora il rimanente? Alla famiglia? Aveva dunque una famiglia? A quanto pare. Grazie, signore. Il guardiano rassicurato a proposito delle mie intenzioni mi salutò e io usci. Povera ragazza, mi dicevo rientrando a casa. Ha dovuto morire proprio nella tristezza, dato che nel suo mondo si hanno amici solo a condizione di essere sani. E mio malgrado mi impietosivo per la sorte di Marguerite Gauthier. Ciò apparirà forse ridicolo a molte persone, ma ho un'inesauribile indulgenza verso le cortigiane e non mi preoccupo nemmeno di discutere di tale indulgenza. Un giorno, andando a ritirare un passaporto alla prefettura, vidi in una delle vie adiacenti una ragazza accompagnata da due gendarmi. Ignoro cosa avesse fatto quella ragazza. Tutto quello che posso dire è che piangeva come una fontana, tenendo il braccio un bambino di pochi mesi da cui l'arresto l'avrebbe separata. Da quel giorno non sono più riuscito a disprezzare una donna a prima vista. Bentornati su narrazioni senza importanza e benvenuti al primo capitolo della Signora delle Camelie. Come avete letto infatti ho deciso di spostarmi sulla narrativa francese con un libro che è un'icona della narrativa della seconda metà dell'Ottocento, nonché insomma come vi avete già potuto vedere anche la base di una delle opere liriche più famose probabilmente della storia, che è La Traviata di Giuseppe Verdi e che probabilmente forse non tutti sanno si basa su una storia vera e cioè l'amore che legò per un certo periodo Alexandre Dumas figlio con la cortigiana Marie Duplessis e fu una storia veramente tragica perché la ragazza morì credo all'età di 22 o 24 anni, quindi da ragazzina, insomma proprio una ragazzina. Un amore quindi estremamente travagliato e molto viscerale da parte dei suoi protagonisti perché come capita sempre quando si è giovani tutti i sentimenti sono molto più forti e che è un po' l'icona di quella che diventerà la belle époque francese, quindi una cortigiana desiderata da tutti, uno spiantato che l'ama disperatamente e un finale tragico. Come sempre vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, se il mio progetto vi sta piacendo potete sostenerlo iscrivendovi al canale, mettendo un like, un commento e condividendo il video, potete venirmi a trovare anche su Instagram, narrazioni senza importanza, io vi aspetto per il prossimo capitolo. Alla prossima!